Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Xatica Ita. Oggi andremo a fare il terrarie bioattivo per i nostri baby di Cigatus, visto che hanno raggiunto una certa età e riteniamo che comunque sia giunta l'ora di cambiare il terrario. Come terrarie bioattivo noi intendiamo creare un ecosistema vero e proprio all'interno del terrario, praticamente inserendo un substrato formato da terriccio, con all'interno una squadra polizie formata soprattutto da collemboli tropicali e tarmi della farina. Iniziamo subito, ma prima lei. Ora prenderemo tutti i terrarie, li laveremo e incomincieremo la trasformazione da terrarie sterile a terrarie bioattivo. Il primo passaggio è la pulizia dei vetri del terrarie, quindi ci dedicheremo appunto a pulirli e a svuotare il terrarie. Adesso inseriremo il terriccio più la squadra polizie e alcune piante vive. Iniziamo subito, ma prima lei. Iniziamo subito, ma prima lei. Il terrarie è finito, adesso andiamo a mettere i gecchi dentro. Adesso passiamo all'altro terrario che è quello di Gresti, quello più grande. e lo facciamo sempre più attivo e praticamente identico a quello di prima, solo che è abbastanza più grande. Iniziamo. 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 Grazie, il video si conclude qui, speriamo che vi possa essere stato d'aiuto in qualche modo e speriamo che vi possa essere piaciuto. Non dimenticate di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per non perdervi nessun nostro nuovo video. Arriviamo a quanti like? 40 like per un prossimo episodio. Ok. Vi ricordiamo di seguirci su Instagram dove potrete vedere tutte le info sui nuovi terrarie bioattivi che abbiamo fatto, tutte le storie. Ogni giorno postiamo una nuova storia e vi ricordiamo di mandarci i vostri terrarie per i nuovi episodi dei vostri terrarie in cui reagiamo alle vostre tecche e ai vostri terrarie. Mandateci anche qualsiasi domanda, anche qua sotto nei commenti, per fare dei nuovi episodi. Avremo in mente di fare due o tre episodi in cui rispondiamo alle domande che ci fate e chiudiamo il video. Ciao. 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 Ciao.